Salve fanciulle e fanciulli, facciamo un interattivo particolare, perché sarà comunque un interattivo rivolto ad una sola questione e a trovare risposta ad un unico quesito, non lo suddividiamo in domandine, lasciamo le carte libere di parlare, se avete piacere poi di lasciare dei commenti qui sotto nello spazio apposito, fatelo pure, io vi leggo sempre, poi trovate anche il tasto per iscrivervi e sostenere il canale da qualche parte qui, e l'e-mail nell'info box per contattarmi per i consulti personali, ma è un indirizzo molto semplice perché è tarocchi viaggio alchemico, chioccio da gmail.com. Voglio utilizzare queste carte che io acquistai tanto tempo fa in un mercatino e su queste carte c'è anche la traduzione scritta perché evidentemente la persona che le possedeva prima ha preferito fare così, io ovviamente ho lasciato la cosa perché cancellare, beh avrebbe rovinato ulteriormente le carte, quindi lasciamo la traduzione all'impronta che è stata messa. E cos'altro? Andiamo semplicemente a chiedere alle carte cosa devi sapere in questo momento, quindi è ovvio che la narrazione comune comunque darà delle risposte differenti, perché c'è chi di voi le interrogerà, alcuni di voi le interrogeranno per il lavoro, per l'amore, per la vita di tutti i giorni, oppure ascolteranno senza porre la domanda, lasciandosi un po' illuminare di volta in volta dalle considerazioni che verranno fuori. Io vorrei utilizzare nuove carte, ciò non toglie che potremo aggiungerne altre, vorrei utilizzare solo questo mazzo, ciò non toglie che potremo attingere agli altri mazzi. Diciamo che la prima serve un po' a inquadrare l'argomento, poi ripeto, a seconda di come vi parleranno e risuoneranno, voi ovviamente se volete potete condividerlo. Andiamo a vedere un po'. Di cosa parliamo? Lo sapete, il video generale ha validità da quando lo ascoltate, metto le carte al dritto, le interpretiamo però per come si danno, parlo come fosse un uomo verso una donna, solo per convenzione linguistica. Proviamo a fare un pochettino più di spazio, ecco, forse così si vede meglio. Ho i miei vari foglietti qui sulla scrivania e li togliamo, agendine varie e penne, però vabbè, è un luogo vissuto, di conseguenza ci sono vari oggetti. Allora, andiamo a vedere un po' di cosa andiamo a parlare in questo momento. E iniziamo con una vedova, inconsolabile o pronta a consolarsi, un cappello tirato fuori dalla sua scatola, un'apertura che serve a far entrare luce, ma il cappello che porta ombra sulla testa, a coprire con l'ombra lo sguardo, ma si stava osservando lo specchio, da il profilo allo specchio. Cerchiamo di capire bene. Quindi in questo momento potresti trovarti in una condizione di incertezza, proprio a cavallo tra una chiusura, il cappello e un'apertura, un limite ed una possibilità. Ma ragioniamo su un fatto, il limite è contenuto nella possibilità. La possibilità è più grande del limite. Come dire, tra le energie positive e negative in questo momento nella tua vita, le positive sono più forti, sono di più. Inoltre il limite che hai ha una sua profondità e lo specchio che è comunque muro, oltre a restituire quello che tu sei, quindi il passato, proietta il passato nel futuro in un gioco di rimandi. Tu sei quell'attimo presente che può dare con il minimo di libero arbitrio che gli compete nuova direzione al passo. Quando si è fermi e ci riflettiamo poco, si può girare su se stessi. È ovvio, non si può cambiare radicalmente il presente. Se sei a Roma, giri su te stessa a Roma. Ma puoi andare a destra, a dovestra, a nord, a sud. Cioè c'è un minimo di libertà. Solo che questa persona, che potresti essere tu, al di là dei rumori, delle parolacce, di tutto ciò che sale dalla strada, perché qui le persone giustamente si sentono libere di dire tutto quello che gli passa per la testa. Questa persona sei tu o è l'altra persona? Per la maggior parte di voi è chi sta guardando la nostra stesura, che non riesce a lasciare andare il passato. E quindi orienta ancora il suo interesse sentimentale verso questo passato. Va detta una cosa, perché questo non è un messaggio di soluzione, potrebbe essere anche un messaggio utile solo a fare il punto. Tu sei ferma in questo incroso e puoi girare su te stessa. L'elemento circolare ce l'abbiamo anche con la scatola del cappello. E va bene. E anche il cappello sulla testa è un elemento circolare. Quindi ci sono degli elementi che rimandano al tuo pensiero, che è la premessa della tua azione. Pensiero focalizzato in un punto che diventerà un'azione come una freccia scoccata. Indietro non si torna, però per moto retrogrado apparente si può andare avanti nel tempo e nello spazio ripercorrendo a ritroso la strada fatta per giungere dove sei. E questa informazione potrebbe essere letterale o metaforica. Letterale, non riesci proprio a lasciare andare quell'amore e quindi continui ad ossessionarti, perché poi è tutto in un punto, tu hai concentrato tutta la tua attenzione sulla punta della freccia. La particolarità della freccia di Cupido è sì parlarci di amore, ma ci ricorda anche che si tratta di un amore un po' coercitivo, lì dove appena viene scoccata e raggiunge l'obiettivo, porta l'obiettivo a pensare a qualcosa che un attimo prima non era assolutamente nella sua mente. Quindi anche ad innamorarsi di un contesto, di una persona, di una situazione che magari un attimo prima non rientravano nei suoi interessi. E va bene, nella faretra ci sono varie frecce, potresti scoccarne più di una. Ma allora, se non è un tornare indietro letterale, cosa ti stanno dicendo le carte con questo sei di cuori, cara regina di picche, che vieni da una chiusura in quanto vedova, ma vorresti rimetterti subito in gioco? Ti dicono che potresti reiterare lo stesso comportamento o attirare nel futuro un contesto simile al passato, da qui il gioco di specchi. Tra il tuo riflettere nella testa e il riflettere dello specchio, tutte e due, strumento di riflessione. È carina questa cosa, sono delle carte molto interessanti, quindi cercando di fare un attimo il punto su queste prime due carte, sappi che uno, togliti l'abito della vedova, proprio alleggerisciti di questo nero, lascia entrare la luce, per favore. Sì, va bene, il nero assorbe, ti vuoi far attraversare da questa luce, ma riflettila anche, cioè emanala, perché se l'assorbi è come un po' un vuoto a perdere, quindi nel riflettere diventare riflettenti, anche non solo riflessivi. E prova a ipotizzare anche una direzione completamente differente rispetto a quelle già praticate nel passato. Sì, è vero, potrei dire, ma io ne esco con le ossa rotte, quindi la malattia, il malessere, la debolezza, la testa fasciata, e allora si va per gradi, via il cappello, via la fascia, hai bisogno di coccole, di amore, ma non ti mancano questi affetti, perché il sentimento può essere di tante nature, ed espresso in tanti modi. Hai persone care che ti vogliono supportare, e va detto che intorno a te ci sono anche persone care che hanno deciso di sopportare, quindi le tue amiche, i tuoi amici, i parenti, il tuo confidente, la tua confidente, piano piano tira fuori, perché per far rientrare la salute bisogna gettare fuori anche la malattia. Parla alla tua interiorità, dialoga con il tuo vissuto interiore, e cerca di trovare quantomeno un ponte, un punto di incontro, per poter analizzare a 360 gradi, proprio perché puoi girare su te stessa, il momento presente. Abbiamo la casa di campagna, dove rispetto alla casa di città, ovviamente c'è un clima molto più sereno, quindi recupera la serenità e la forza, rimettiti in salute, non vivere questo momento come un esilio del cuore, due di cuori, il cancello, la grata, e non pensare che fuori il mondo funzioni e dentro invece no, cioè gli altri sono tutti no fedeli, come il cane con il guinzaglio, accoppiati tra di loro, quindi ci sono queste coppie felici, invece solo tu all'interno del tuo momento presente stai male, un momento di malattia è sicuramente una rottura con il passato, che ti porta però a voler recuperare, a stare anche meglio di prima, bisogna avere un orizzonte, bisogna avere un fine, una meta, che può essere anche una metà, qualcosa che tornerà a completarti, non necessariamente nel sentimento, ma anche in tutte le cose che ti possono appassionare. Che cosa vogliono dirti le nostre carte in questo momento, che sta per giungere una comunicazione, una lettera potrebbe farsi risentire quest'uomo, o può darsi che questa comunicazione sia già giunta, lì dove non sei tu che la stai inviando, nonostante magari la tentazione, però potresti non aver ancora scritto né telefonato, sta per giungerti qualcosa. Secondo me aggiungeremo anche qualche carta in più, rispetto alle prime nove che andremo a voltare, perché ora la domanda è, ok, ma cosa sta arrivando? È una buona nuova, quindi ti contatta qualcuno che non ha a che fare con il tuo passato, e quindi è un'informazione importante che ti raggiunge, che ti distrae dalla routine che ad oggi è noia, e non è sicuramente una precondizione di benessere questa noia, perché non fa scorrere, non fa fluire se non scorri, non ti sposti da questa fase di stallo, ma ti fa ristagnare tutto ciò che ristagna, è putrido e ha a che fare più con un clima di depressione, che non con un clima di benessere per l'appunto. Litigio, allora quello che scoprirai, quello che ti verrà riferito, quello che ti verrà detto, eventualmente anche da una persona che farà da messaggero o messaggera, sarà un qualcosa che ti farà arrabbiare, ma ti inquieterai con la persona che ti porta la notizia, o con la notizia e quindi con il soggetto di ciò che ti verrà raccontato, con la persona che ti porta la notizia, che poi non ha colpa, quindi dispiacere, contrarietà, e cosa ti viene riferito da questa persona, è che lui ha un'altra donna, che lui si sta sposando, che lui non lascia la donna ufficiale, quindi mettiamola così. Al momento c'è una fase di distanza, questa distanza forse hai cercato di mantenerla anche non indagando, questa è una persona che comunque ti ha fatto nel passato delle promesse che sono state disattese, magari alcuni di voi avevano consapevolezza del fatto che non fosse un uomo o una donna libera, però magari queste promesse sono state promesse comunque importanti. Per il tuo benessere, visto che stai male, hai dovuto rinchiuderti concretamente o metaforicamente in questo tuo luogo interiore per cercare di recuperare un po' di serenità, nel momento stesso in cui eri indecisa tra il ripartire o provare a ricontattare questo uomo, questa donna arriva l'amico, il conoscente, e ti dice cose che ti confermano la mala fede dell'altro. E in questo caso l'incostanza conferma sul fatto che il dato oggettivo non corrisponde con nulla rispetto a ciò che lui a parole o lei ti aveva detto, prospettato o promesso. Ma cambiamo mazzo, voglio andare ad approfondire. E come premesso, a me nove carte in questo caso non mi danno alcuna soddisfazione. Indaghiamo se c'è stata una dinamica di narcisismo e quindi al di là del messaggero che potrebbe anche essere una scimmia volante, questo uomo, questa donna, vuole in qualche modo avere i tuoi occhi su di sé perché anche se a distanza gli arriva un approvvigionamento energetico. Questa domanda la faccio sempre voltando sette carte di questo mazzo e se viene fuori, gran signore o signorino, una risposta affermativa sulla dinamica narcisistica. Comunque, il rapporto ufficiale non è un rapporto che funzionerà. Non si tratta di un focolare domestico ma di un focolaio domestico. Ti confermo anche la notizia che raggiunge però casa tua, la casa di campagna. Rientriamo nelle immagini di prima e porta scompiglio e va a tormentare con la famosa testa prima, con la fasciatura e poi che stavi cercando in qualche modo con la prima carta di proteggere con il cappello. Non voglio vedere, non voglio sapere, non voglio sentire e me ne venite a dire le cose, ma allora siete fetenti. Potrebbe trattarsi di scimmie volanti, non è una scimmietta, però c'è il concetto del volo. A questo punto è interessante anche rivalutare la funzione del cappello a portare ombra sugli occhi, quasi a dire io ho la possibilità di guardare anche oltre, di vedere lo specchio come anche apertura sul mondo dei social. Ma nella mia decisione interiore, riflettendo, io per fatti miei ho deciso che queste cose non le voglio assolutamente sapere. Me ne voglio tenere distante alla larga da qui l'immagine della casa di campagna intesa come un luogo esterno alla città, dove la città è il luogo in cui si vive e si lavora e la campagna al momento della vacanza. Quindi tu hai ragionato nell'ultimo periodo circa il fatto che ok la vedovanza è un evento che non si può evitare, non l'hai scelto ma è un dolore che è arrivato, stai cercando di risanare questa ferita, invece no, ecco che vengono a bussare alla tua porta. È una scimmia volante, assolutamente sì, che non vuole metterti nella condizione di metabolizzare e lasciare dietro le spalle questo dolore, perché il pensiero c'è a distanza e anche se non è lui, in qualche modo ti fa aggiungere notizia. Lo ha deciso in maniera proprio voluta, quindi consapevole, e la persona che ti viene a dare informazioni non dice tutto, l'atteggiamento un po' distaccato e misterioso porta solamente con la scusa del conforto al malato, le immagini di prima, porta semplicemente questa informazione per come lui te l'ha fatta aggiungere, ha voluto fartela aggiungere. Però vediamo, c'è ancora una carta per capire se ci sarà una dinamica di ritorno, stile narcisista. No, però il ritorno lui lo vorrebbe. Vediamo che consiglio ti danno le carte. Perché il punto qual è? Allora, parte il fatto che mentre tu ti trovi nella condizione di malessere, con la carta del matrimonio, per la maggior parte di voi, è lui che invece sta in una condizione positiva e quasi per dispetto ti fa sapere questa cosa. Per altri, una piccola parte, ora continuando, cerchiamo di capire se è una narrazione plausibile, lui si è pentito e anche se tu hai preso una decisione netta vuole farti capire che si può recuperare. La carta del matrimonio, evidentemente la promessa che ti aveva fatto e che ha disatteso. Guarda che possiamo ancora incontrarci davanti a quel sacerdote non per celebrare il funerale della nostra storia, davanti a quel giudice che ci unirà e ci potrà dividere solo la morte, non più nessuno, fidati, fatti sentire. Ora dobbiamo capire però, in questo bivio interpretativo, dove si va a parare. Se dobbiamo approfondire la questione sono pentito, vorrei tornare, fammi tornare, o torna tu da me, recuperiamo tutto, e quindi quella ciclicità che ti ripropone la stessa dinamica, anche se è un futuro e non è un passato per l'appunto, solo la direzione della frezza sembra andare indietro, ma non si può effettivamente tornare indietro. Oppure se ci troviamo davanti al fatto che, sì, ti ha ingannata, sei in quella condizione di malessere, devi cercare di uscirne fuori e magari allontana la persona che non è tua amica, quella che è venuta invece che a sollevarti dalle tue pene a portare ulteriore pardello. Quindi andiamo a vedere che tipo di finale o conclusione questo breve messaggio vuole darti poi ovviamente, se vi vengono in mente domande di approfondimento particolari, scrivetele, le possiamo utilizzare come spunto per un ulteriore interattivo per il canale. Quindi stiamo parlando di cosa? Di un rapporto che si recupera o del fatto che ti è ingannata? Beh, conflittualità c'è, e sicuramente l'intermediario serve anche a tutelare lui perché sa che se arriva direttamente da te lo tratti malissimo, perché il dolore che ti porti dentro, vuoi o non vuoi, tira tu fuori una sorta di vereno e in quanto tale sicuramente non è una carezza sull'anima. Allora, per la maggior parte a questo punto, io pensavo fosse invece la minoranza, no, per la maggior parte si può trattare di questo ritorno con buone intenzioni, nella convinzione comunque di trovarti ancora innamorata. E lui vorrebbe questa volta ricambiare e cogliere il gesto che forse nel passato ha calpestato e offeso. Si tratta di ritorno perché abbiamo l'elemento della migrazione degli uccelli e poi lui che ha le ali sull'elmo e sui calzari, quindi anche messaggi che ti giungono con le ali dall'alto sono qualcosa che effettivamente vuole farti arrivare lui. Quindi, confusione sia nella sua che nella tua di mente, l'idea sarebbe diamo un taglionetto al passato e ricominciamo da zero. Io ti mando questo gesto, vorrei trovare lo stesso come tuo, riflettere le mie intenzioni, cioè condividerle. Io dinanzi a te come te davanti a quello specchio, che cosa ti consigliano le carte a questo punto? Beh, guarda, il punto è devi scegliere liberamente, quindi devi cercare di riflettere senza lasciarti in qualche modo istruire o direzionare. E quello che non mi convince tanto è proprio il ruolo della persona che viene a raccontarti queste cose, perché potrebbe non averti detto tutto e potrebbe averti tenuta in parte all'oscuro, quindi ti dà questa prospettiva rosea. Andiamo a vedere però se corrisponde alla realtà o se l'intermediario veramente è una persona con delle intenzioni non proprio amichevoli. No, guarda, il punto è che il mittente ti invia un messaggio sincero. L'intermediario potrebbe essere persona poco carina tanto nei tuoi confronti che addirittura nei confronti del mittente. Il vostro ritrovarvi è cosa scritta nel destino. Il partire, ripartire, volare la cicogna, riprendere a scorrere le due coppe, il cuore che abbiamo nella carta del bagatto e il cuore con cui tu lo ricambi devono riprendere ad andare in parallelo dopo che si è creata una situazione di siccità. Arriva un altro elemento. E il bello delle stesure generiche e generali è che ci sono tanti sotto canovacce alla storia principale. Ecco perché poi quando si fa un consulto personale si va nello specifico perché si conosce meglio il punto di partenza e anche dei dati oggettivi utili. Senti un po', ma non è che c'è questa persona di mezzo che è una persona un po' fedente che ha fatto il doppio gioco e vi ha fatto litigare e quindi avvelenato quella che era una fonte comune di passione e sentimento portando a prosciugarsi proprio questo terreno che avrebbe rappresentato la base comune per edificare casa vostra, la casa che brucia rispetto alla casa invece che funziona per prendere in mano concretamente la situazione vediamo un po' in questo caso una dinamica ciclica infinita che prevede un ritorno riuscendo però prima ad alleggerirsi da preoccupazioni che ad oggi invece rappresentano il fardello che ancora blocca tutto coronare un sogno avere il coraggio di coronare questo sogno nonostante tutto con questa sposa che va verso questo leone in maniera libera allora elimina l'intermediario vediamo quali sono le intenzioni dell'intermediario perché a questo punto si il rapporto si può recuperare anzi strano che ci sia stato questo fraintendimento che ha fatto soffrire entrambi soffre lui nella carta del pensiero che abbiamo visto prima e soffri tu nelle carte che ti rappresentano però qualcuno vi è ingabbiato in un fraintendimento che va assolutamente ridimensionato questo simbolo altrimenti girate a vuoto all'infinito senza concludere nulla ma le intenzioni di questo intermediario che natura di che natura sono sono state allora un blef si gioca ma si sta blefando a questo punto e che cosa vuole vincere questa persona che vi ha fatto discutere senza che tu te ne sia resa conto e che forse ha anche chiesto il parere di questi strumenti per capire come agire vediamo un po' allora un'amica quindi una falsa amica amica assenza di amicizia quindi una non amica rispetto a una donna che stava muovendo passi verso qualcuno qualcosa vediamo meglio una falsa amica sia nei tuoi confronti che nei confronti di lui visita la persona che ti ha fatto visita ed eccolo qui donna collerica è cattiva ti ha collocato in un posto sai quando no ci sono quei gesti che portano malocchio portano energie pesanti non mi sento bene questa persona la devi eliminare dalla tua vita via proprio via non va bene inquina l'aria che ti circonda e ora facciamo una contro domanda vediamo a livello carmico se riuscite a venire fuori da questa situazione abbastanza tossica che tipo di dinamica c'è tra di voi te e lui che può essere premessa un po' del vostro destino vediamo se c'è qualche carta che ci parla di anima gemella cioè la carta dell'armonia la carta degli amanti la carta dell'amichevolezza del confronto le nomino prima la papessa in questo mazzo e ce ne sono anche delle altre vediamo un po' maturità ai frutti seguire il flusso e non rimanere a ristagnare allora voi siete destinati carta delle stelle e lì era una carta dove abbiamo detto che il flusso si è interrotto quel flusso riprende e la carta delle stelle non c'è comunicazione ma si va in parallelo verso lo stesso obiettivo dove il contenuto delle anfore libero si fonde ed essendo nella stessa natura riflettendosi rispecchiandosi due volti coincidono voi coincidete e diventate una cosa sola quindi è vero che al momento sembra che non ci sia comunicazione tra radice tronco foglie fiore e frutto ma i frutti arrivano ci sarà questo taglio da ciò che avvelena le acque ciò che ha avvelenato la fonte per fortuna il destino vostro è un destino comune che vi darà che cosa questo destino comune allora il futuro la totalità riunirsi e diventare un qualcosa che ha una totalità proprio perché non più separato lasciarsi andare fidarsi l'imperatrice sei tu la donna da maritare sei tu la donna voluta sei tu la donna amata sei tu la donna che può rimettere in circolo con la propria decisione una relazione ridando l'infa in movimento o una relazione interrotta per l'intromissione di una persona poco seria aspetto riscontro un bacio ciao